Eccessiva proliferazione da quando nel lontano 2000 furono immessi i primi esemplari. Sono troppi i cinghiali sulla murgia, sia nell'area del parco, dove l'ente risarcisce i danni da fauna alle colture, che nelle zone contigue. Difficile la loro gestione, complice in lockdown, si sono fermate le catture, adesso l'emergenza è diventata di carattere regionale, se non addirittura nazionale. Le associazioni agricole, riunite a Gravina in Puglia, nella sede dell'ente, chiedono sia affrontata una volta per tutte. Il parco da solo, dice il presidente Francesco Tarantini, non può farcela, nonostante gli sforzi come il monitoraggio della specie e il coordinamento delle catture stesse. C'è un progetto, si chiama FICIPAM, che prevede il costituirsi di una filiera basata sull'impiego dell'animale come risorsa agroalimentare, introducendo la macellazione sul posto per l'uso in totale sicurezza delle carni. La palla passa ora alla regione, a cui si chiede di regolare la caccia controllata nelle aree limitrofe alla zona protetta. Abbiamo chiesto con le associazioni agricole all'assessore Pentassuglia di costituire una cabina di regia permanente che affronti in maniera organica il problema dei cinghiali, che abbraccia anche aree protette del resto della regione. Il sele controllo a che punto siamo? Il sele controllo noi abbiamo proposto questa bozza di regolamento delle aree contigue che disciplina anche l'abbattimento nelle aree limitrofe al parco. Aspettiamo solo l'ok da parte della regione, regione che tra l'altro deve approvare lei di intesa col parco in giunta a questo regolamento e poi dopo di che si potrà partire.